decisi i tre grandi elettori toscani ad andare a votare il presidente della repubblica saranno mazzeo gianni e landi apprezzamento dall'aula ma anche una vena critica per l'assenza di una donna marradi continuerà a conservare la lavorazione e la produzione dei marroni l'azienda che produce il marron glacé aveva mostrato l'intenzione di spostare l'attività a bergamo ma poi è tornata sui propri passi in bilico invece il confezionamento la squadra toscana per l'elezione del presidente della repubblica è pronta il consiglio regionale ha votato i tre grandi elettori che da lunedì saranno impegnati a roma per la nomina del nuovo capo dello stato il primo degli eletti è il presidente dell'assemblea toscana antonio mazzeo con 27 voti poi il governatore eugenio gianni con 25 e il portavoce delle opposizioni marco landi con 13 un grande onore una grande responsabilità andare a scegliere il successore del presidente mattarella a cui va un grande grazie per il lavoro che ha svolto in questi anni con serietà passione dedizione il compito che avremo non sarà semplice trovare una figura che abbia la sua stessa capacità di saper essere garante della costituzione di saper rappresentare le cittadine e i cittadini italiani un alto profilo istituzionale e anche quelle qualità e quelle doti morali che sono fondamentali per fare il presidente della repubblica io sono davvero contento per me è una grande soddisfazione sarà la prima volta di un'esperienza del genere appunto insieme a tutti i colleghi del parlamento per le elezioni presidente della repubblica è stato un voto che ha consolidato il sostegno e la simpatia che si è espressa da un punto di vista politico con il voto unanime dei 25 componenti la maggioranza i 23 del pd e i due d'italia viva quindi per me davvero una grande bella soddisfazione sento la responsabilità perché lunedì 24 di gennaio noi avremo per la prima volta la sera alle 19 è già calcolato il momento in cui i tre grandi elettori della toscana sono chiamati al voto la possibilità di esprimerci io spero che in parlamento si determini non la conta di una maggioranza e di una minoranza per il presidente della repubblica ma si riesca a trovare la convergenza su un nome che vada in senso istituzionale a rappresentare come dice la costituzione l'unità del paese e conseguentemente possa raccogliere un consenso così ampio da vedere intorno a questa figura il senso di riconoscimento di tutte le nostre istituzioni e dei rappresentanti che sono chiamati al voto nel ruolo e di parlamentario di grande elettore prima di tutto il ringraziamento va ai gruppi della lega di forza italia di fratelli italia il centrodestra in questa occasione ha dimostrato compattezza e indicando a livello istituzionale il portavoce dell'opposizione questo è un è un onore per me rappresentare la toscana ma anche venendo dall'isola d'elba tutte le zone periferiche della nostra regione e anche tutte le isole minori d'italia sicuramente è un è un impegno che si prende con con lo spirito più alto che l'elezione di un presidente della repubblica deve avere e quindi cercherò di portare avanti il mandato che mi è stato dato nella maniera migliore e più alta possibile la votazione ha trovato il pieno appoggio sia di vincenzo ceccarelli capogruppo del pd che di stefano scaramelli capogruppo l'italia viva siamo soddisfatti perché la votazione è stata una votazione molto corretta molto leale sono state rispettate direi proprio quelle che sono state le proposte fatte noi come maggioranza abbiamo proposto come grandi elettori per la toscana i due massimi livelli istituzionali il presidente della giunta e presidente del consiglio questa è una consuetudine ma siamo convinti anche di aver fatto una proposta di alto profilo che è stata apprezzata a tutto il consiglio tant'è vero che la votazione è stata veramente molto compatta l'auspicio ora è che ai tre che sono stati eletti come grandi elettori del prossimo presidente della repubblica sia riservato la possibilità di eleggere un presidente che sia il degno successore del presidente sergio mattarella che io ho colto l'occasione per ringraziare per il modo l'autorevolezza il prestigio con il quale ha rappresentato l'italia in questi sette anni ecco le difficoltà che stiamo attraversando in italia in europa nel mondo hanno bisogno di un prossimo presidente che sia il degno erede di sergio mattarella e quindi l'auspicio che ci sia in parlamento la capacità di individuare una figura che sia il garante dell'unità nazionale e del prestigio dell'italia in europa e nel mondo la regione toscana ha eletto i propri delegati alle elezioni del presidente della repubblica e credo la notizia più importante che si siano individuate le figure di carattere istituzionale sia nella maggioranza che nella minoranza a noi ha trovato pienamente convinti questa soluzione nel sostenere il presidente della giunta eugenio giani il presidente del consiglio regionale antonio mazzeo ea rappresentare la minoranza sarà marco landi rappresentante il portavoce delle opposizioni credo che sia stata un'elezione corretta nel rispetto dei singoli ruoli quindi tre figure che avranno l'onere e l'onore di rappresentare la regione toscana tutti i propri elettori e la toscana sarà partecipe di un lezione a mio avviso di un presidente della repubblica che possa essere come abbiamo chiesto in aula europeista garante delle istituzioni garante dell'unità nazionale ma soprattutto una persona in grado di respingere i tentativi e le pressioni del populismo come quelle del sovranismo una grande figura istituzionale ed abbiamo piena fiducia e diamo mandato quindi tre grandi elettori della regione toscana di rappresentare tutti noi come consiglio regionale per conto nostro tutti gli elettori della regione toscana apprezzamento è stato espresso anche da francesco torselli capogruppo di fratelli d'italia che ha sottolineato la condivisione nel centrodestra sul nome di landi l'unica nota differente la offerta Irene galletti del movimento 5 stelle che ha evidenziato la mancanza di una donna alla fine ha prevalso l'intento politico a qualsiasi tipo di personalismi l'obiettivo era quello di mantenere unito il centrodestra l'abbiamo detto fin dall'inizio che qualora vi fosse stato un accordo tra i partiti di centrodestra chiunque di noi fosse andato a rappresentarci in sede di elezioni del presidente repubblica non avrebbe fatto una differenza perché se c'era un accordo chiunque fosse andato a roma a votare per il presidente della repubblica avrebbe rappresentato tutto il centrodestra toscano così è stato i partiti a livello nazionale hanno trovato un accordo non era giusto e logico che fosse l'unità del centrodestra a discapito di chi magari aveva pensato di potersi incuneare con qualche strategia strana in spaccature inesistente alla fine il centrodestra ha dimostrato ancora una volta di anteporre l'interesse politico all'interesse personale e il voto a marco landi ha testimoniato questo quindi un grande bocca al lupo a marco e che rappresenterà sicuramente tutto il centrodestra toscano in sede di elezione del presidente della repubblica l'espressione dei grandi elettori delle regioni sono un segnale di continuità tra roma e il territorio e l'intero suo territorio che i padri costituenti hanno voluto consegnarci con l'impegno di garantire la rappresentatività che è un fattore fondamentale qualcosa che la nostra costituzione sottolinea in ogni suo passaggio e oltre alla rappresentatività e anche quella dell'inclusione e in questo passaggio c'è da dire che noi abbiamo come movimento 5 stelle abbiamo voluto dare indicazione al presidente del consiglio antonio mazzeo di rappresentare politicamente tutte le forze che sono espresse all'interno dell'arco consigliare consegnando a lui questa fiducia e dall'altra parte ci sarebbe piaciuto vedere anche l'espressione della totalità di quelle che sono i cittadini toscani e questa totalità riguarda per la metà donne donne che fra i tre rappresentanti che andranno a eleggere il presidente della repubblica non sono espresse e questo dispiace perché tutti i gruppi politici si riempiono spesso la bocca mi viene da dire con parole riguardo la parità di genere l'inclusione rappresentatività però poi arrivano le azioni concrete ci troviamo di fronte a questi numeri che più volte nel corso di questo anno già sono stati anche denunciati dalla commissione pari opportunità molte nomine la maggior parte sono degli sono uomini pochissime donne marradi continuerà a essere il centro principale per la produzione e la lavorazione dei marroni a comunicarlo è stato il presidente regionale eugenio gianni che ha sottolineato come la ita al canditi abbia fatto un passo indietro rispetto allo spostamento delle attività a bergamo il governatore ha tuttavia evidenziato la vittoria a metà perché il confezionamento sarà comunque trasferito in lombardia mettendo così a rischio diversi posti di lavoro sono contento che il dibattito in consiglio regionale si stia indirizzando nel modo in cui ho visto ovvero grande responsabilità da parte di tutte le forze politiche la volontà di arrivare a una mozione unitaria come del resto io ho potuto assistere arrivamo quella domenica mattina in cui si è riunito il consiglio comunale aperto di marradi e dopo gli interventi di centro destra centro sinistra siamo arrivati a un voto unanime questo da forza chi poi rappresenta le istituzioni chi dà forza alla capacità contrattuale che insieme al movimento sindacale insieme ai lavoratori e alle lavoratrici possiamo esercitare sui titolari dell'azienda perché venga mantenuto sia il lavoro sia la tipologia di produzione finora gran parte del lavoro ha portato a dei risultati però non di totale soddisfazione tutte le forze politiche hanno espresso soddisfazione per quanto avvenuto anche se hanno voluto sottolineare che l'attenzione non sarà abbassata serve un piano industriale ha evidenziato massimiliano piscini del pd serve un tavolo di concertazione condiviso con i sindacati ha aggiunto maurizio sguanci di italia viva mentre i reni galletti del movimento 5 stelle ha ricordato l'importanza di questo prodotto per tutta la comunità e non solo dal punto di vista economico quello che abbiamo approvato ieri è un atto importante perché dà forza al presidente della regione alla vice presidente a tutta l'unità di crisi regionale per l'incontro che ci sarà venerdì prossimo con l'azienda il secondo l'azienda ha fatto una scelta secondo noi profondamente sbagliata e per la rari sono un patrimonio di tutti di tutti noi patrimonio culturale di paesaggio agricolo ma anche industriale nella loro trasformazione e quella fabbrica che occupa tra stagionali in particolar modo donne più di 80 persone quasi 90 se si contano i coloro che lavorano in modo stabile dentro l'azienda capite che per un paese di 3.000 abitanti diventa una bomba sociale difficilmente sopportabile anzi impossibile da sopportare per quello noi siamo andati tanti consiglieri il nostro il nostro gruppo il nostro partito ma tanti tante forze sociali politiche hanno voluto testimoniare solidarietà vicinanza ma non solo anche il lavoro per una prospettiva abbiamo presentato anche noi un atto di impegno per l'ortofrutticola del Mugello per l'azienda che si è vista sottrarre la trasformazione del suo prodotto tipico siamo stati presenti anche al presidio per portare la nostra solidarietà e quello che abbiamo trovato è stata una scena commovente un'intera comunità e il suo sindaco riunite intorno a delle famiglie perché qui si tratta di famiglie intere che lavorano a quella che è la loro tradizione il loro orgoglio e che è quello che ha permesso anche loro per molti anni di portare a casa una fetta importante dello stipendio lo voglio ricordare sono soprattutto molte donne che lavorano in questa azienda stagionali e il fatto di essere all'improvviso e in circostanze simili diciamo essere messi a conoscenza di questa notizia è stato qualcosa che ha sconvolto non soltanto la comunità di Marradi ma tutta la Toscana una forma di delocalizzazione sui generis che però non possiamo accettare per questo anche noi abbiamo aderito poi all'atto che tutti quanti i gruppi hanno sottoscritto per rinnovare l'impegno a sedersi al tavolo con la proprietà e convincere non soltanto a non chiudere l'azienda ma anche a lasciare lì la produzione la trasformazione del prodotto che viene raccolto proprio in quelle zone abbiamo avuto il piacere di udire il governatore per quello che riguarda la crisi che riguarda Marradi per l'azienda per l'ottofrutticola di Marradi che ci ha detto che ci sono stati degli sviluppi positivi a noi risultava in realtà che gli sviluppi positivi fossero sviluppi al 50% l'azienda resta ma il 50% dei lavoratori stagionali sarebbero comunque andati a casa così come il 50% dei 10 lavoratori a tempo indeterminato già questo noi riteniamo sia inaccettabile in quanto mandare a casa 55 famiglie in una realtà di confine come è Marradi voglio ricordare a tutti che Marradi è l'ultimo comune toscano prima è la Romagna che ha un tessuto economico estremamente fragile vuol dire mettere in difficoltà tante persone in un comune così piccolo anche per quello che riguarda poi il mantenimento del lavoro un conto è lavorare un prodotto di eccellenza come il marron glacé il marrone mugellano di Marradi è IGT il che vuol dire che è un prodotto riconosciuto di grandissima qualità a livello internazionale l'azienda che ha acquistato l'ortofrutticola è per il 70% come maggiore investitore di un'altra azienda che acquista il prodotto lo rimette sul mercato distribuendo a tantissime grandi aziende e si lascerebbe invece a Marradi soltanto il lavoro della seconda scelta la macinazione della farina e l'imballaggio dei prodotti e poi vanno sul banco del frisco